Una serata dedicata ad un gigante del pensiero, Frederick Nietzsche, che non solo ha segnato un'epoca al Novecento, ma che ha cercato con i suoi scritti e il suo pensiero di creare quell'inquietudine, quegli interrogativi e la messa in discussione delle idee precostituite che sono il cuore e il senso stesso della filosofia. È quello che ha tentato di fare con il pubblico cremasco anche il filosofo e saggista Umberto Galimberti, ospita Crema, che ha inaugurato la rassegna culturale Crema del Pensiero in una tre giorni, che ha messo al centro della riflessione l'incerto confine tra genio e follia e la figura di Frederick Nietzsche. Una rassegna Crema del Pensiero sostenuta quest'anno anche dall'amministrazione provinciale e che risponde alle esigenze e all'interesse del pubblico, vista la numerosa partecipazione nella bellissima cornice di Crema Arena, gremito oltremisura. È toccato poi al filosofo Galimberti, prendendo spunto dalla prima opera di Nietzsche e la nascita della tragedia, raccontare il tramonto dell'Occidente, del cristianesimo e della civiltà, secondo il filosofo tedesco. L'Occidente con la sua cultura sono stati fondati dal filosofo greco Platone. Noi pensiamo e ragioniamo secondo le categorie platoniche, che sono state assimilate totalmente dal cristianesimo, definito da Nietzsche il platonismo del popolo. Ebbene Nietzsche cerca di smontare e destrutturare totalmente l'impianto platonico del pensiero, con il suo dualismo anime-corpo, mondo delle idee vere, chiare e distinte, mondo del sensibile, effimero nella sua conoscenza soggettiva. La scienza, la ragione e la tecnica, su cui si fonda la cultura occidentale, cercano di dominare con le loro categorie ciò che non si conosce, ciò che provoca un'angoscia profonda, come la morte. Ma in questo dominio della ragione e della tecnica si perde il senso della vita, incatenata la vita in libertà. Di qui il tramonto dell'Occidente con la cultura cristiana, un nichilismo che nel suo pessimismo ha tuttavia incantato il pubblico cremasco che è tornato a casa, speriamo, con qualche interrogativo in più, sul proprio modo di pensare e ragionare, che pone le sue basi nella filosofia di Platone.